Isola di Liri è un comune italiano della provincia di Frosinone nel Lazio il centro storico cittadino si sviluppa sull'isola formata del fiume Liri il quale si divide in due bracci che formano ciascuno un salto di circa 30 metri la cascata grande e la cascata del Val Catoio la cascata grande e alta circa 27 metri è una delle poche cascate insieme a quella di neppi a trovarsi nel centro storico di una città venite pure voi a visitare l'isola dell'Iri nel Lazio Italia